È stato forse un malore la causa dell'incidente stradale verificatosi sulla via Pesciatina, all'Appato, nel comune di Capannori. Un'auto, una Dacia Logan Station Wagon, condotta da un 55enne, è andata a schiantarsi contro il muretto di un'abitazione. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente. Subito è stato dato l'allarme e sul posto sono arrivati sia i mezzi del 118 che quelli dei vigili del fuoco, dato che l'uomo era rimasto incastrato nell'abitacolo. Le condizioni del 55enne sono apparse subito gravi ed è per questo che è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, che è atterrato in zona. Alla fine l'uomo è stato trasportato in elicottero a Cisanello. Le sue condizioni sono serie, ha riportato un trauma facciale, la frattura del femore, la rottura della clavicola e lesioni addominali. Le operazioni di soccorso hanno provocato l'interruzione temporanea della viabilità sulla pesciatina, con conseguenti lunghe code sia in direzione Lucca che in direzione Pescia.